Dov'è che sei? Che zona sei? Alessandria. Alessandria proprio sei? Sì, sì. Ma sai che io sono venuto lì per due anni, mi trombavo la donna di uno che c'è una band che parla di cadaveri, di morti. Aspetta Pino, aspetta, aspetta, aspetta che stiamo andando in diretta. E noi ci siamo in diretta, sì. Ci siamo, siamo arrivati in diretta, perfetto, buonanotte.